buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere il canale lo può fare sempre solo ed esclusivamente gratis con un semplice click devo dire una cosa non è un dissing non è un dissing devo dire una cosa quello scribacchino e c'ha le scarpe da calcio dietro per far sembrare che capisca di calcio ecco guarda io ho la palla ma a differenza tua ho giocato 20 anni quindi è inutile quello lì che piangeva per lukaku quando non è stato ripreso lukaku eh quello là insomma c'ha le scarpe dietro che fa il professore del calcio quello a malapena ha giocato a palline sulla spiaggia capito e invece purtroppo youtube youtube da voce a persone arroganti come quello lì che c'ha le scarpe dietro mentre fai video youtube da voce a persone volgari che si credono chissà chi ma invece di parlare di calcio secondo me eh nel tempo libero farebbero meglio a fare qualche azione sociale accompagna una signora anziana a fare la spesa metti a posto i carrelli alla copp è inutile parli calcio quando non ci apisci un cazzo tra l'altro questo personaggio fallo splendido dà del coglione a chi era preoccupato io ero preoccupato per Ciannoglu quindi non so se era diretta a me ma indirettamente lui dà del coglione quello scripacchino dà del coglione anche a me praticamente lui dà del coglione a chi era preoccupato per Ciannoglu e parlava di tre settimane il professore del calcio ci spiega cos'è un'elungazione ma a differenza sua io ho giocato vent'anni lo so benissimo cosa vuol dire un'elungazione cosa vuol dire giocare su un dolore io ho una chat whatsapp in degli esonerati dove ci sono 400 persone e dissi vedrete che sarà fermo più di due settimane e ci sono centinaia di persone che lo possono testimoniare perché hai giocato su un dolore quindi questo professore ci spiega praticamente che l'elungazione è uno stiramento senza ematoma che servono una decina di giorni ma perché lui al massimo si vede che hai giocato a palline è inutile tu metti le scarpe da calcio dietro te hai giocato a palline te sei uno che ha studiato il calcio sui libri quindi perché te non sai che quando uno gioca su un dolore te che fai professore su youtube arrogante e non sei altro quando uno gioca su un dolore commerciale difficilmente sono sono dieci giorni e quando uno esce dopo un quarto d'ora esce un quarto dopo un quarto d'ora perché sento una fitta importante altrimenti un giocatore non esce dopo un quarto d'ora infatti sono dieci giorni l'ho visto come sono dieci giorni professore metti un altro paio di scarpe dietro quando fai video quindi questo scribacchino che ci vuole insegnare cancio e vuole insegnare tutto che piange ancora per l'ukaku perché non è stato ripreso intanto c'è la nostra fuori tre settimane forse forse rientra con il venezia ma a questo punto fallo rientrare dopo la sosta meno male erano solamente dieci giorni caro scribacchino con tutto rispetto per gli scribacchini e nulla non ho nulla contro gli scribacchini e contro chi fa il suo lavoro ma a differenza tua che sei un arrogante non capisci un cazzo di calcio che continui a piangere per lukaku che sono del lukaku era un fuori classe ora ora ragazzi c'è un bel dilemma perché ora c'è la mogu è una fonte fondamentale per la nostra per il nostro sviluppo del gioco come gli esterni non per nulla in zaghi mi sembra scrissa addirittura un libro dove spiega che gli esterni sono fondamentali per il suo gioco andiamo all'albanese a cristian alzani che è un giocatore che a me fondamentalmente piace perché a me piacciono tutti i giocatori che sanno giocare a questo e piacciono perché aslani sa giocare a calcio c'è questa leggenda che sta giocando fuori ruolo all'inter non è vero lo dico a mani in cuore non è vero perché spesso all'impoli lui ha giocato anche play in zaghi ascolta scribacchino segnate le queste cose in zaghi scribacchino arrogante invece di mettere le scarpe dietro studiala almeno studia e annotale queste cose qui in zaghi predilige mezzalli muscolari quando si dice ma aslani mettiamolo mezzala non è la mezzala che predilige non è la tipologia di mezzala che predilige in zaghi perché ripeto simone vuole delle mezzalli muscolari con molto dinamismo che sappiano fare la doppia fase quindi ora siamo a un bivio sicuramente giocherà aslani titolare ma aslani se fallisce se costretto poi dopo ad adattare lì barella davanti alla difesa ed è da inserire frattesi e già ti rimangi un altro cambio perché frattesi è uno e comunque quando entra dalla panchina spesso ti spacca le partite mentre ballerino ti spacca altre cose aslani ti spacca le partite quindi puoi adattare barella ma ti scordi le sciabolate di 50 metri verso gli esterni di cialanoglu e di questa mancanza ne potrebbe risentire molto anche un giocatore per noi un altro giocatore fondamentale che è di marco perché barella non ha la visione di gioco e le sciabolate di cialanoglu cambio gioco di 50 metri aslani potrebbe averle il problema è che aslani continua a perdere troppi palloni quindi per come la vedo io cristian io spero che tu risulti migliore in campo ma penso sia l'ultima opportunità per te sfruttala bene perché sai giocare a calcio gioca tranquillo fai le cose semplici cerca di non strafare se è un ragazzo intelligente io ho parlato con chi ti conosce visto abbiamo un'amicizia in comune a 20 km io tifo per te cristian perché secondo me ce la puoi fare però devi capire che non sei più un bambino e questa è l'ultima opportunità che ti viene data visto la lunga sosta di cialanoglu con questo ragazzi vi saluto mi raccomando per chi volesse sostenere il canale l'iscrizione gratis poi fate bobis ciao inter